Questo è Linkedin Formula. Cos'è PiAssocia? Il presidente PiAssocia è la prima associazione italiana dedicata alla comunicazione e informazione digitale. Poi non lo so quanto tempo hai di presentazione. No vabbè la presentazione la fai te, nel senso che poi alla fine è un presidente PiAssocia e poi ci pensi tu a spiegare tanto. Ok, cominciamo allora. Ciao da Valentina, oggi siamo con Francesco Di Costanzo, presidente dell'associazione PiAssocia. Sicuramente se avete sentito e visto vari contenuti che ho pubblicato, soprattutto nell'ultimo periodo, magari avete già approfondito chi è Francesco oppure chi è PiAssocia, ma vorrei intanto introdurlo e farci spiegare da lui chi è e cosa fa in PiAssocia. Ciao Francesco, grazie. Ciao, grazie a te. Un saluto a tutti. Sono Francesco Di Costanzo, presidente dell'associazione PiAssocia, che è la prima associazione nazionale dedicata alla comunicazione e informazione digitale, in particolare per il settore pubblico. Quindi tutti quegli strumenti, dai social di cui parleremo anche oggi, alle chat, all'intelligenza artificiale, agli strumenti innovativi del web per il servizio pubblico, per dare informazioni, comunicazione, servizi, dialogo, interazione ai cittadini. Inoltre, da giornalista, sono anche direttore di cittadini di twitter.it, che invece è una testata giornalistica che racconta ogni giorno buone pratiche, esperienze, utilizzi, sempre della cosiddetta nuova comunicazione, che poi insomma tanto nuova ormai non è più. Bene, allora, io poi ti ho conosciuto sempre davanti a Cristian Tosolini, mi fa piacere citarlo, e mi è piaciuto tantissimo il progetto PiAssocia perché finalmente la pubblica amministrazione passa ad essere passiva a essere attiva, soprattutto nel digitale, quindi in qualcosa che è nuovo. Quindi si ribalta il concetto di Stato vecchio, antiquato, e invece grazie alle persone, quindi ai cittadini italiani, diventa innovativo. Ci puoi raccontare un attimo il ruolo di PiAssocial e delle persone che comunque sono associate a PiAssocial a livello di società? Cioè cosa fanno per la società? Sì, allora, intanto saluto anch'io a questo punto Cristian Tosolin, che appunto è un amico comune, ma per quanto ci riguarda è coordinatore del Friuli Venezia Giulia per PiAssocial, oltre a essere uno degli esponenti importanti di PiAssocial, è una persona che rappresenta molto la nostra attività e quindi vengo anche a risponderti alla domanda, perché in PiAssocial oggi ci sono oltre 700 associati, ci sono 17 coordinamenti regionali, c'è un'attività e una partecipazione costante sia a livello di comunità, quindi di persone, sia a livello di community e quindi di scambio sui social, insomma su web, quindi di grande scambio e confronto costante. Cosa fa PiAssocial? PiAssocial fa divulgazione con tantissimi eventi territoriali e nazionali, fa formazione, quindi punta sulla qualità, sulle competenze nell'utilizzo di questi strumenti, fa ricerca a un osservatorio nazionale creato insieme all'Istituto Piepoli per analizzare appunto cosa vogliono, cosa cercano i cittadini sugli strumenti di cui stiamo parlando, tra l'altro abbiamo fatto uscire proprio da pochi giorni una nuova ricerca che dice che l'80% dei cittadini cerca informazioni, comunicazione e servizi sui social network e sulle chat, quindi li vuole trovare da parte della pubblica amministrazione e poi facciamo pubblicazioni, ovviamente anche la costruzione costante di una comunità community, come dicevo prima, che è essenziale e lo abbiamo visto ad esempio in questo periodo di emergenza per poter rispondere in tempo reale alle esigenze dei cittadini. Ti posso fare l'esempio dell'emergenza, ma vale anche nella normalità, c'è un costante scambio ad esempio attraverso numerose chat, numerosi strumenti di partecipazione di materiali, card, infografiche, video, confronto proprio sui contenuti per poter offrire appunto informazioni corrette, ovviamente lotta alla disinformazione, insomma una quantità di lavoro dedicato, fatto da tanti professionisti e competenze eccezionali, fortunatamente in Italia ne abbiamo molti, che ci porta poi al prodotto finale, cioè il servizio al cittadino. Quanto ha impattato LinkedIn nella comunicazione delle pubbliche amministrazioni, quelli che le usano ovviamente, e nella tua personale? Allora, intanto premetto che noi con LinkedIn come associazione Pia Social abbiamo lo scorso anno fatto un tour dedicato che si chiama Pia Social in Tour, che ha girato l'Italia con numerose tappe veramente in tutta Italia, in tante città, proprio per far conoscere la piattaforma sia al settore pubblico, ma in generale anche sotto un punto di vista che non fosse solo quello della piattaforma per trovare lavoro, diciamo così, che proprio addetta anche degli stessi esperti di LinkedIn è purtroppo l'approccio più generale che sia il cittadino tra virgolette normale, sia l'ente, la struttura pubblica o l'azienda spesso ha avuto nei confronti di LinkedIn, in realtà tu lo sai meglio di me, LinkedIn ha tante funzionalità e possibilità e quindi può essere sfruttato anche per altre cose. Questo tour e questo processo di divulgazione, devo dire che ci ha fatto analizzare una realtà italiana dove non tantissime amministrazioni lo utilizzano, però sicuramente in crescita ce ne sono, quindi non è che sono inesistenti, ce ne sono tante, però meno che su altre piattaforme social, però è anche vero che sono stati fatti degli step di comprensione della piattaforma, quindi io credo che oggi l'offerta da parte delle pubbliche amministrazioni sia sicuramente migliore rispetto al passato, anche con quelle funzionalità più vicine magari che conoscevamo più in altri social, dalle foto ai video alle dirette o altre possibilità che oggi LinkedIn, oggi insomma già da un po' di tempo LinkedIn da. Per quanto riguarda il mio utilizzo personale, io lo utilizzo ovviamente soprattutto per le attività che faccio come Pia Social, quindi racconto molto quello che faccio ogni giorno, sfortunatamente ora molto online e purtroppo non in presenza, però nella normalità mi capita di girare molto per l'Italia, di incontrare persone, di approfondire queste tematiche con tantissimi professionisti, enti, aziende pubbliche, imprese e via dicendo e LinkedIn ovviamente è uno strumento molto utile, soprattutto rispetto ad altri social anche di approfondimento, cioè quello che si mette su LinkedIn come dire spesso viene letto in modo approfondito, in altri social magari si ha un utilizzo diverso, però questo è normale perché insomma come diciamo sempre anche quando facciamo formazione stare su LinkedIn è una cosa, su Facebook è un'altra, su Instagram è un'altra ancora per poi arrivare a TikTok ed altri ancora diciamo un po' più complessi per la Pia. Allora contestualizziamo un attimo il video, stiamo parlando durante la quarantena del Covid-19 e per questo, diciamo specifico perché hai detto che in questo momento non sei in presenza, solo per questo motivo, poi riprenderemo ovviamente tutti. Una domanda nella domanda, che impatto hanno avuto le pubbliche amministrazioni nella gestione della tranquillità sociale durante questa emergenza Covid-19? perché ho notato da cittadina che ogni giorno vado a vedere il sito del mio comune o comunque vado a vedere la pagina Facebook perché nel mio comune è più sviluppata quella e tengo i contatti perché sto comunque in provincia in questo momento, che impatto sta dando, che ruolo ha, ma anche cosa ha bisogno diciamo il settore per esplodere, per avere veramente un impatto molto più misurabile? Quindi io so di molti colleghi che sono operati di lavoro perché magari nei piccoli comuni devono gestire 80 pagine social e non va bene, questo non si lavora bene. Cosa proponete voi per migliorare questa situazione? E quindi anche l'impatto poi che dà questo servizio. Sì, allora l'impatto in emergenza è stato secondo me fondamentale perché tutti noi come cittadini se abbiamo a disposizione la fonte ufficiale che può essere appunto il comune o l'azienda sanitaria o il governo o la regione a seconda di quello che stiamo cercando, se l'abbiamo a disposizione su questi strumenti e in più questa fonte li utilizza bene, è una risorsa direi necessaria e fondamentale per il cittadino per orientarsi e avere una stella polare, una bussola, chiamiamola come volete, per orientarsi nelle tante informazioni che arrivano e per avere soprattutto quella corretta nel momento giusto. Quindi l'impatto è stato fondamentale e prima mi chiedevi del lavoro che abbiamo portato avanti e che portiamo avanti quotidianamente con Pia Social, il sostegno alle fonti ufficiali è uno di questi perché più si riesce a convogliare l'attenzione sulle fonti ufficiali, più otteniamo nel caso dell'emergenza, ma non solo, anche comportamenti corretti da parte dei cittadini che magari non devono impazzire per trovare quello che stanno cercando, magari anche con linguaggi comprensibili e quindi poi avremo dei frutti positivi nella normalità. Cosa manca su cui stiamo lavorando anche noi? Noi oggi abbiamo un quadro, ce l'ha riconosciuto l'Ocse, di primi a livello internazionale per numero di buone pratiche e per avere oggi come Italia una rete, quella di Pia Social, ma che va ben oltre il numero dei soci, insomma come ti dicevo prima è molto partecipata al di là di essere soci o non essere soci, che è dedicata alla comunicazione e informazione digitale, questi siamo stati i primi ad averla a livello internazionale, questo significa che come dicevi tu, grazie al lavoro, alla voglia, alla intraprendenza di tanti singoli professionisti anche in situazioni più piccole, in enti più piccoli come in quelli più grandi, noi siamo arrivati preparati all'emergenza con buone pratiche che erano già così prima del momento di difficoltà. Cosa manca? Manca che questo sia strutturale, in un paese non ci si può affidare solo ai tanti, ai tantissimi che ci hanno messo buona volontà, spirito di iniziativa, sana improvvisazione come dico io nei primi tempi e poi sono diventati buone pratiche, noi dobbiamo dargli gambe, creargli una struttura, creare un sistema e per farlo oltre a quello che dicevo prima, continuare con lo scambio di buone pratiche, la divulgazione costante, investimento sulla cultura digitale, fare formazione, dare spazio alle competenze, finalmente dare spazio alle competenze sia per chi c'è già all'interno della PA, quindi aggiornarlo costantemente, ma anche per chi dovrà necessariamente entrare e arrivare con un ricambio importante e poi noi stiamo seguendo come PA Social insieme ad altri il percorso per la nuova legge sulla comunicazione pubblica, quindi per l'aggiornamento della legge 150, noi la chiamiamo la legge 151 per farci capire, che dovrà sicuramente, a breve potremo avere delle notizie su questo, dovrà riconoscere professionalità che oggi non esistono formalmente nella pubblica amministrazione, come il social media manager per fare un esempio, ma ce ne sono altre, dovrà dare un nuovo modello organizzativo, un'organizzazione diversa che permetta rispetto a quella che c'è oggi di avere un coordinamento, una redazione diffusa, una integrazione delle competenze che serve per poter essere più veloci, rapidi, dare informazioni in tempo reale, farlo con le giuste specificità e qualità e quindi per tradurlo dare il servizio al cittadino in tempi veloci, ma anche ovviamente approfondito e con correttezza. Poi ci sono tanti altri elementi di quella che dovrà essere una nuova legge, però questo è per far capire che ormai la svolta digitale, visto che parliamo anche dell'emergenza che ha acceso un faro enorme sul digitale per tanti motivi, anche e soprattutto per necessità, la svolta digitale che va anche nei tempi, nei modi, negli strumenti di lavoro, ormai deve diventare realtà anche nella normalità della nostra pubblica amministrazione. Bene, allora io ti ringrazio e se vuoi ricordare magari dove trovarti e dove trovare Social PA comunque con dei link. Sì, allora, PA Social ovviamente la trovate sul nostro sito web www.pasocial.info e su tutti i canali social dell'associazione, social e chat, abbiamo anche un canale pubblico su Telegram e per quanto mi riguarda sono su tutti i social network come Francesco di Costanzo, ovviamente sono a disposizione per approfondire se volete ulteriormente questi argomenti. Bene, ti ringrazio Francesco e magari ci riaggiorneremo dopo l'emergenza per vedere com'è lo stato dei lavori. Molto volentieri, grazie mille. Ciao, a presto. Ciao, ciao a tutti. Stop, ok, com'è andata? Mi pare bene. LinkedIn Formula, il podcast per trovare clienti con l'inbound marketing di Valentina Vandilli.